Ciao, benvenuto, sono Eva Rosenthal, campionessa di dressage ed anche mental coach. Nella mia professione di mental coach aiuto gli atleti ad utilizzare la propria mente come acceleratore di risultati, quindi gli aiuto a raggiungere i propri obiettivi e gli aiuto ad esprimere il massimo del proprio potenziale in allenamento ed in gara. Negli sport moderni avere talento non è più sufficiente per vincere. Allenarsi tecnicamente tutti i giorni non è più sufficiente per essere tra i migliori. Quello che fa sempre di più la differenza è la capacità di allenarsi mentalmente. Per esperienza personale ho notato che molti atleti sottovalutano l'allenamento mentale, pensano che sia normale essere già preparati mentalmente, ma ti faccio questa domanda. Quante ore passi della tua giornata ad allenarti tecnicamente? Quanto pensi possa migliorare il tuo allenamento in casa e i tuoi risultati in gara se tu conoscessi le tecniche di mental coaching, se tu conoscessi quelle tecniche che ti permettono di dare il meglio di te anche quando sei sotto stress? Ti piacerebbe conoscere le tecniche per migliorare le tue performance sportive in allenamento ed in gara? Contattami e scrivimi per chiedermi tutte le domande che vuoi sul mental coaching.